Benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento un'anticipazione per la prossima stagione, la 22-23, la maglia away dell'Arsenal in versione player. La maglia non è ancora ufficiale, ma si basa su delle anticipazioni rubati da alcuni siti specializzati. A queste prime indiscrezioni sembra che la seconda maglia dell'Arsenal per la stagione 2022-23 sia nera, con loghi color oro metallizzato e le tre strisce alitas sulle spalle di colore grigio. A comprendere il look, la maglia presenta una lieve stampa geometrica con forme astratte sul davanti e sulle maniche. Se si guarda con attenzione però, la stampa non è completamente astratta, bensì si possono notare i deboli contori delle lettere A, F e C, che si riferiscono al nome completo Arsenal Football Club. Avete anche notato che lo stema del club è stato invece sostituito dal logo dei cannoni Gunners, un dettaglio di design che abbiamo visto implementato per la prima volta sulla maglia da trasferta 2021-22. È la prima volta che l'Arsenal realizza una maglia nera con Aridas, cosa già successa in passato con Puma, con la terza maglia della stagione 2017-18. Questa maglia è strepitosa, nella mia classifica prende 5 stelle, sapete che ho un debole per le magne scure e questa è venuta veramente benissimo. Tra l'altro è fatta veramente molto bene, devo dire, e se pensate che così come la vedete costa soltanto 18 dollari, beh, è incredibile. Vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poter acquistare la maglia. Ora, prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia L della versione Player, quella dedicata agli atleti. Per oggi è tutto, alla prossima! Per oggi è tutto, alla prossima!